Cosa sono i sensori? Come funzionano? E a che cosa servono? Per sensore si intende in generale un dispositivo tipicamente elettronico, ma spesso è compendiato da un software che ne acquisisce i dati e li analizza. Facciamo un esempio. Immaginiamo il cellulare, lo smartphone, che è quella cosa che per antonomasia hanno praticamente tutti. Bene, uno smartphone ha all'interno almeno una dozzina di sensori. Un sensore, per esempio, tra quelli più noti è l'accelerometro, che permette, per esempio, di misurare le accelerazioni e quindi un'applicazione è in grado di sfruttare questi dati per contare quanti passi e quanta strada facciamo, per esempio, per calcolare il nostro livello di benessere, di fitness. Un altro sensore, sempre a bordo del cellulare, è per esempio il magnetometro, che è alla base del funzionamento dell'applicazione Compass, che è la bussola, e quindi misura il campo magnetico terrestre. Altro tipo di sensore è, per esempio, il barometro, che misura la pressione atmosferica, e così via, e così via. Quindi ci sono tantissimi. Fra i sensori, che sono quelli più usati, più comuni, sono per esempio il microfono, che è il sensore che acquisisce informazione audio, oppure la camera, che è quel sensore che acquisisce frame, frame, diciamo immagini video. Ecco, tutti questi sensori sono tipicamente un'integrazione di hardware, per esempio già installati, cablati nel vostro cellulare, e di software, tipicamente delle app, che hanno il compito di riaccogliere queste informazioni e poi trasformarle in conoscenza utile per la vita di chi, per esempio, gestisce un cellulare. Il funzionamento di questi sensori è fortemente legato al tipo di sensore. Per esempio ci sono dei sensori che sono in grado anche di, come dire, avere capacità di misurazione di odori, per esempio sensori di tipo chimico, o per esempio sensori in grado di capire, percepire il livello di radiazione all'interno. Però, ripeto, qui si entra in un campo, in un maremanium molto più grande, fatto sta che i sensori sono alla base di quella che è l'internet delle cose. Quindi le cose, per poter capire, percepire, calcolare e trasmettere agli altri, devono avere a bordo un elemento fondamentale che si chiama sensore.